Sono stati pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione Toscana i bandi dei concorsi per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato nei centri per l'impiego di 49 persone. Lo ha annunciato l'assessore regionale al lavoro Cristina Grieco nel corso dell'incontro con la stampa insieme agli altri membri della Giunta. Due le categorie di assunti, i junior ovvero operatori privi di esperienza e i senior, operatore ai quali è richiesta un'esperienza di almeno 36 mesi negli ultimi 8 anni. I posti da coprire al momento sono 49 per la necessità di rispettare la scadenza del 30 giugno imposta dalla legge nazionale, anche se il Governo non ha ancora attribuito a ciascuna regione le risorse per gli operatori da assumere in quota parte, 4.000 a livello nazionale e 250 in Toscana. Noi abbiamo predisposto per stare dentro la scadenza del 30 giugno il concorso e poi scorreremo le graduatorie non appena avremo la decretazione che ci attribuisce le risorse dei 4.000 nazionali. Ricordo che in due anni, quindi da qui alla metà del 2021, ci saranno oltre 700 assunzioni in Toscana a tempo indeterminato. Inizieranno invece la formazione alla fine di luglio i 152 navigator selezionati dall'Agenzia Nazionale per la Toscana. Passando ai trasporti, la Giunta regionale ha deliberato lo stanziamento di un milione di euro per aumentare la sicurezza e l'assistenza ai viaggiatori a bordo di treni e autobus. Trenitalia destinerà i fondi regionali all'assunzione di altri operatori che indossando pettoline rosse e blu vigilano sui treni e nelle stazioni. Con le risorse che noi mettiamo, 700.000 euro saranno assunte altre 14 di queste persone per cui saranno coperte anche le stazioni dei comuni capologo di provincia a rotazione da parte delle persone che fanno cortesia e ci saranno 8 persone in più che salgono sui treni per fare sicurezza. Le aziende del trasporto pubblico locale con i fondi regionali assumeranno personale per vigilare sulla sicurezza di chi viaggia sugli autobus e per affiancare i controllori nelle operazioni di verifica dei biglietti.